Il governo si è mosso dal 2014 nella consapevolezza di dover camminare lungo un sentiero stretto. Da una parte un debito cresciuto negli anni fino ad oltre il 130% che richiedeva di essere stabilizzato ed è stato stabilizzato attraverso un percorso di contenimento del deficit. Dall'altra l'esigenza di una politica di stimolo all'economia reale che ha seguito le conseguenze di una doppia recessione profonda e prolungata. I progressi compiuti, muovendosi su questo sentiero stretto, sono incoraggianti e confermano che non esistono scorciatoie rispetto alla strategia intraprese. A maggior ragione in una fase in cui rimane elevata l'incertezza politica a livello globale e non solo. Il governo intende proseguire nella strada imboccata che, accanto alla continuazione delle riforme e di una politica di bilancio attenta al consolidamento favorevole alla crescita, sostenga il rilancio degli investimenti pubblici, invertendo il trend seguito tra il 2008 e il 2013.